buona giornata oggi un pensiero del giorno molto 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 particolare e poi mi scriverai nei commenti che cosa ne pensi come come ti suona se ti risuona male ma molto molto particolare ma molto bello credo che se la vita ti dà dei limoni dovresti fare della limonata e cercare di trovare qualcuno la cui vita ti ha dato della vodka e fare una festa ron white con questa frase come si ho detto forse un po irriverente forse ti stona perché te non sei una persona da festa non sei una persona sei una persona anzi che no la vita è una cosa seria va trattata seriamente no sbagliato non ci siamo la vita è una cosa seria va trattata seriamente va bene ma quando sei fuori dalle cose che devono essere trattate seriamente anche se io per certi versi quando posso non le tratto seriamente uguale le tratto con serietà ma non seriamente che è un po diverso cioè comunque lasciamo stare questa cosa qui devi trovare qualcuno con cui fare festa devi trovare i tuoi momenti di scazzo i tuoi momenti di festa sì certo anche al lavoro perché anche al lavoro puoi prendere puoi fissare con dei colleghi e prendere il caffè alla macchinetta insieme e dire bischerate parlare di niente divertirti staccare disconnettere non pensare al lavoro quando sei in pausa caffè quindi se la vita ti dà dei limoni dovresti fare della limonata che tra l'altro è una cosa molto buona e cercare qualcuno con cui fare festa perché fare festa è quella cosa che ti farà vivere la vita piena stracolma di felicità perché c'è sempre un buon motivo per fare festa te lo dice un mischero da retta oggi trova i tuoi momenti in cui festeggiare in cui essere felice daniele paci per felicità e pace aum shanti 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 buona giornata ciao ridi 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 sempre